Animali, originali costruzioni in muratura, figuranti che riporteranno in vita antichi mestieri. Arriva a Piacenza la fattoria di una volta, in programma per domenica in piazza Duomo dalle 9.30 alle 19.30. Un'iniziativa voluta da Unione Commercianti in collaborazione con il Comune e la Camera di Commercio. All'ombra della cattedrale comparirà dunque una vera e propria fattoria, con tanto di buoi, asini e altri animali da cortile, accanto ai quali verranno riprodotti con cura i lavori di un tempo in un perfetto allestimento agricolo. Come è nata l'idea di questa iniziativa? Allora, questa iniziativa è nata da una mia, diciamo, esperienza passata, perché io ho già visto questo circuito, che si chiama la vecchia fattoria di Pontoglio, in provincia di Brescia, e la vidi anni fa in una località del Lombardia. E mi colpì veramente, perché era una cosa, secondo me, straordinariamente bella. E quindi, dopo tanti anni, sono riuscita a recuperarle e portarle a Piacenza. Ecco, che cosa vedremo quindi in Piazza Duomo? Allora, vedremo intanto una ricostruzione del mondo agricolo di una volta. Quindi parliamo di queste cascine in muratura sui bilici, veramente molto belle, cioè proprio cascine vere e proprie, col tetto, tutte in muratura, quindi in mattoni. Con all'interno, ho degli animali, le caprette, poi avremo all'esterno invece dei recinti, in cui ci saranno dei buoi molto grandi, due molto grossi e due e tre invece un po' più giovani, che verranno poi anche fatti girare sulla piazza. Poi ci saranno dei cavalli, degli asini, che verranno accuditi anche dalle persone, perché avremo una trentina, più di una trentina di figuranti, che ricostruiranno il mondo di una volta, quindi con gli antichi mestieri, quindi affileranno le falci, macineranno le pannocchie di grano turco, trasformandoli in farina, insomma faranno vedere dei mestieri di una volta vestiti e allestiti proprio come un mondo agricolo di una volta, di cui Piacenza penso che faccia anche un rappresentante importante. Non mancheranno infine una vasta proposta di enogastronomia locale a chilometri zero, il trenino del gusto e il mercatino dell'antiquariato e del riuso che si snoderà tra Piazza Duomo e Via Legnano.